Campanella come a scuola, diamo il benvenuto a una bella guerriera. Modella, influencer e qua con noi Sara Cardillo, buongiorno. Buongiorno a tutti i guerrieri del mattino, buongiornissimo. Ciao Sara, il saluto è buongiornazzo, te lo ricordo. Buongiornazzo allora. Dunque Mike, tu l'hai presentata nome e cognome, che è una cosa che non sempre facciamo, di solito diciamo solo nome. No, perché lei è una molto seguita sui social, bisogna dirlo, e insomma si è inventata anche una nuova professione, se vuoi, da un certo punto di vista, ha una storia un po' particolare, si sveglia molto presto perché si allena come un fabbro ferraio. Io ve lo dico, come un fabbro ferraio. E tra l'altro picchia come un fabbro ferraio. Abbastanza, abbastanza, sì, pratico Muay Thai da circa sei anni, mi alleno, ho anche combattuto due anni fa, sono super contenta. Sono un amante del fitness, mi ha cambiato letteralmente la vita, lo sport ha migliorato la mia vita, mi ha reso una donna molto più forte e sicura di me stessa. E quindi attraverso i social cerco di influenzare e di far vedere proprio uno stile di vita sano, non fatto sempre di rinunce del cibo. Anzi, facendo sport e mangiando in modo equilibrato si riesce anche a mangiarsi la pizza, il fritto, il dolcetto. No alle rinunce, sì a uno stile di vita sano. È un po' quello che facciamo noi tranquillamente senza fare sport. Ci devo credere. No, noi a volte con la scusa che magari abbiamo fatto le scale di casa, ci mangiamo, che ne so, un hamburger a mezzanotte, diciamo vabbè ma tanto non ho preso l'ascensore. Ma dipende quante scale hai da fare per andare a casa. È vero. Senti, scusa, ne approfitto intanto che sei qua. Innanzitutto seguiteci live sul Facebook dei Radio DJ oppure sulla nostra pagina Andrea e Michele. Vedrete Sara che è bellissima con questi occhi azzurri, angelici e uno non direbbe mai che mena come un fabbro ferraio. No, tra l'altro, scusa, si allena con uno che mena poco. Sì, mi alleno nella palestra del campione del mondo di K1, Giorgio Petrosian. Grande Petrosian. Grandissimo. Grandissimo. Grandissimo, grandissimo. Dicevo, cosa ne pensi di questi uomini che insomma urlano, ah viva la fitness, non la fitness e poi però quando ce la trovano davanti si impauriscono. Ti è mai capitata una cosa così? Sì, in passato, non saprei, sì, gli uomini sono un argomento a parte, onestamente, non li capisco tantissimo a volte. Vabbè, tu sei fidanzata comunque. Io sono felicemente fidanzata, sì. Hai una relazione stabile, per cui non hai frequentazioni. Sì, esattamente. Io non vorrei essere in lui, non so perché, ma io... In tanti lo dicono. Sì, eh. Ma come sei poi nella vita di coppia? Sei una così tenace e dura come sei poi quando ti alleni o no? Sono molto difficile da sopportare, devo essere onesta, per cui sono tosta. Poi sono una gemelli. Comunque stasera non sono d'accordo con... Confusara. No, ma poi sei arrivata, sono le 6.46, c'hai un piglio già da guerriera. No, io inizio la mattina che già parlo, potrei rampicarmi sulle pareti. No, questa, ragazzi, veramente, lei si allena, si sveglia prestissimo, è un missile da quel punto di vista lì. Infatti, e quindi sui social poi cosa fai? Fai vedere la tua vita sana, fai vedere i tuoi allenamenti. Sì, condivido i miei allenamenti, la mia vita quotidiana, un po' tutto. Quindi lo sport ha un po' variato il modo di porsi in questo senso, perché tu facevi la modella prima. Io facevo la modella e assolutamente non mi piaceva andare in palestra, cioè zero. Poi ho partecipato a questo corso di autodifesa indetto dal comune di Milano e lì mi sono innamorata in questa palestra di questo corso di Muay Thai e mi sono iscritta. Da lì è iniziato il mio percorso nello sport. Ok, e tante donne immagino ti chiederanno consigli poi anche in posta privata. Beh, diamo anche l'account Instagram. Sara Cardillo. Sara Cardillo, difficilissimo ragazzi. Chiocciolina Sara Cardillo. Sara, per me sei bellissima, bravissima, simpaticissima. Le domande le fate solo voi, posso farle in casa? No, no, prego. Sai che Silvio, quando sta un po' alato, poi vuole partecipare, un po' come ieri al Quirinale. Prego Silvio, dica. Ho dato il tuo numero di telefono. Adesso abbiamo dato l'account Instagram, adesso anche il numero di telefono. Si rilarga subito, puoi darglielo? Eh, no. No, ok, grazie Sara per essere venuta qua. Grazie a voi, per ieri, ciao. Grazie, 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 grazie.